Chi ti darà il colpo di grazia se questa tua abitudine è costante di cercare nel tempo di rimanere distinso? Oppure questo pubblico nemico che spesso ti odia e a volte ti ama e poi ti spari per diventare famoso? Chi ti darà il colpo di grazia? Chi ti darà il colpo di grazia? Chi ti darà il colpo di grazia? Certe volte penso che nella mia vita l'unica cosa che possa fare la differenza è la marca delle sottilette. Certe volte penso che l'unica cosa che può fare realmente la differenza nella mia vita è il tipo di antibiotico che uso per uscire i miei virus, i miei sforti virus. In questa montagna di giorni infami che stivano accumulando nella mia memoria di grazia. Ci sono tutti i miei virus, i miei virus, i miei virus e i miei virus sono tutti i miei virus. E' un po' di grazia. Sento suonare le sirene, sento suonare le sirene, si avvicinano così, si avvicinano Ehi, cazzo! Sento che, posso dirlo che, sento che, posso dirlo che, stanno portando via i miei giorni E questa è la cosa straordinaria, quando ti portano via, non stanno portando via uno stronzo, una stronza di 60 o 70 kg Stanno portando via la tua vita Centinaia di libri, se sei stato fortunato, o di giornalini, o di settimane enigmistiche